In corsia 1 Giulia Pegorin Antares, in corsia 2 Andrea Frigo Veneto Banca Montebelluna, in corsia 3 Ilaria De Negri Idros, corsia 4 la ritroviamo Lucia Martelli Circolonuoto Wisp, in 5 Nicole Boccalon Gis Pordenuoto. In corsia numero 6 ha partecipato con la nazionale giovanile alla Coppa Comen 2013, due ori, un argento e un bronzo per lei, già medagliata ai campionati italiani giovanili, Margherita Cordiali, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 7 Aurora Fiorentino, Sporting Club Noale, in 8 Chiara Tavianna, notto di nuoto. Partelli a sfruttare l'apnea, lei parte di nuoto. La parfallista che ben si trova nella fase subacquea del dorso, si prende quel poco di vantaggio che già le dà il vantaggio anche psicologico che si ha nel dorso, nell'essere al comando e vedersi, e vedere con chiarezza le avversarie ai propri piedi. Questa è la situazione a metà gara, Martelli davanti, per lei 30 e 12 di passaggio, Nicole Boccalon 31-62, portacolori del Gis Pordenuoto e poi la Denigri in terza posizione in 31-65. Primato della manifestazione di Margherita Pansiera, 1-0-0 e 0-0. Martelli ormai saldamente in prima posizione, c'è battaglia alle sue spalle con la Boccalon in seconda posizione, la Denigri in terza, andiamo a vedere il tempo della Martelli. Martelli 1-0-1 e 95, Lucia Martelli, Wisp Bologna, Ilaria Denigri che nel finale ha la meglio per la seconda posizione 1-0-4 e 89 e poi Nicole Boccalon 1-0-5 e 0-0.